Il segreto di San Serafino. Come affrontare le umiliazioni. Di Giuseppe e Maria Casadei. Era un vero e proprio incapace. Ogni compito affidatogli era regolarmente destinato a fallire. Le umiliazioni e rimbrotti di superiori confratelli facevano soffrire il suo animo sensibile e, in un primo momento, pensò addirittura di ritornarsene a casa, abbandonando la vita religiosa. Poi però qualcosa cambiò. Fu come se, improvvisamente, l'inesorabile discesa si trasformasse in una risalita ardimentosa e rapida, senza nessun limite. Cos'era mai accaduto? Nato a Monte Granaro, verso il 1540, secondo di quattro figli, fu battezzato con il nome di Felice. Fin da giovane si sentì chiamato ad una vita di penitenza e solitudine. Manifestando un giorno ad una pia giovane questi suoi desideri, essa gli parlò dei cappuccini e della loro spiritualità. felice comprese che quella sarebbe stata la sua vita. Entrato nel noviziato a Iesi, ricevette nella vestizione il nome di Serafino. Dopo la professione religiosa abitò in vari luoghi della provincia Loro Piceno, Corinaldo, Ostra, Ancona, Sant'Elpidio Amare, Ripa Transone, Filottrano, Potenza Picena, Civitanova, Montolmo e soprattutto Adascoli Piceno, dove rimase più a lungo e dove incontrò sorella morte il 12 ottobre 1604. Ritorniamo però al segreto di San Serafino. Può mai un fraticello incapace diventare santo? Può mai riuscire ad affrontare la valanga di umiliazioni che quotidianamente riceve da ogni parte? Può mai rialzarsi dallo scoroggiamento? Può mai non reagire? Sì, fra Serafino ce l'ha fatta e ce la faremo anche noi, se sapremo far tesoro del suo segreto di santità. Lasciamo parlare i processi e in particolare la deposizione di padre Angelo da Macerata risalente al 1671. Un giorno il superiore di Civitanova, accortosi della grande santità dell'umile frate, lo costrinse a rivelare con che mezzi avesse acquistato tanta perfezione. Allora il santo raccontò come lui, essendo persona inabile ad ogni esercizio, si meravigliava grandemente ad essere stato ricevuto nella religione e poi ammesso alla professione. Come lui era inabile in tutti gli esercizi che in qualsiasi cosa lo metteva non faceva cosa a proposito e perciò il padre guardiano gli dava delle penitenze e mortificazioni assai alle quali si aggiunse particolare tentazione del demonio che ridusse in tante angustie esso, fra Serafino, che pensava uscire dalla religione. E un giorno particolare si mise a fare orazione in chiesa avanti il Santissimo Sacramento e in essa fece un lamento grande col Signore dicendo Signore, questi frati hanno pur visto la vita mia. Se io non ero atto alla professione non mi dovevano ammettere, ma giacché mi hanno ammesso perché mi travagliano con tante mortificazioni. Allora sentì una voce dal Santissimo Sacramento che gli disse, fra Serafino, non è questa la strada di servire a me che ho patito tanto per la redenzione del genere umano? Dalla qual voce restò fra Serafino grandemente atterrito e, aiutato dallo Spirito Santo, cominciò ad entrare in se stesso e si propose per vincersi che ogni volta che gli fosse fatto o detto qualche cosa contraria al senso suo, gli voleva dire come in effetto, gli diceva, una corona della Madonna della quale era devotissima. Dopo di essersi esercitato un tempo in tale orazione, orando una volta semilmente avanti il Santissimo Sacramento, sentì un'altra volta questa voce. Fra Serafino, giacché per amor mio hai vinto e mortificato te stesso, domandami pure che grazia tu vuoi che da me la riceverai. Questa fu la chiave che aprì a fra Serafino la porta della Santità. Dal giorno in cui si propose di recitare una corona del Santo Rosario per coloro che lo facevano soffrire e lo umiliavano, la sua scalata verso la Santità non conobbe arresti. Proviamo anche noi e certamente sperimenteremo l'efficacia eccezionale di questo santo proposito. Supereremo ogni difficoltà e conquisteremo la Santità.